Ciao amici di video ripetizioni, ciao youtube, stiamo parlando dell'antivirus AVG 2015 abbiamo appena visto nella parte 3 l'introduzione alla scansione del computer e quindi le varie scansioni nella parte 4 della video ripetizione abbiamo visto le opzioni di scansione, le scansioni pianificate e gli anti rootkit ora andiamo avanti con il nostro antivirus e prima di guardare la protezione web come ti avevo promesso mi sono accorto che da gestione del computer, quindi apri il tuo AVG 2015 se ancora non lo hai scaricato e vuoi vedere come fare basta che vai su videoripetizioni.com sulla pagina principale e se hai la pazienza di scorrere leggermente in basso qua trovi proprio il riquadro con scritto AVG 2015 ci clicchi e hai tutte le videoripetizioni ordinate in ordine cronologico dalla più recente alla più non antica, vecchia ma alla più datata ecco utilizziamo questo termine ed ecco qua, quindi scorri verso il basso e sulla prima parte puoi vedere come e dove si installa gratuitamente bene quindi andiamo avanti, apriamoci AVG 2015 mi sono accorto che dalla protezione del computer se vai su impostazioni noi siamo arrivati praticamente qua a pianificazioni abbiamo visto tutte le scansioni, le tipologie di scansioni, le pianificazioni di scansioni andiamo a vedere la voce aggiornamento e queste altre voci in neanche un minuto quindi proprio al volo naturalmente se hai un proxy nella tua azienda o nel tuo computer devi utilizzare l'indirizzo del server proxy alla porta è abbastanza raro, altrimenti puoi fare il tutto in maniera automatica in questo caso non utilizziamo il server proxy oppure usa proxy se è possibile esegui la connessione direttamente magari questa potrebbe essere la scelta giusta se non sai quale tipologia di connessione hai sul tuo computer fai tutto in maniera automatica e clicca applica altrimenti se ancora non ti funziona vuol dire che hai un proxy e quindi devi mettere impostare manualmente l'indirizzo IP e la porta se non è il tuo caso lascia in maniera automatica ti accorgi subito se ti funzionano gli aggiornamenti come vai alla schermata principale e clicca qua sulla protezione aggiornata e stai controllando gli aggiornamenti se ci clicchi ancora puoi vedere se ti dice pallino verde aggiornamento completato correttamente stai a posto, non ti preoccupare ulteriormente quindi andiamo ancora su computer andiamo ancora su impostazioni dopo l'aggiornamento quindi dopo la voce proxy andiamo a URL ti consiglio di non toccarli perché AVG li mette in automatico gli URL quindi gli indirizzi dei server AVG ufficiali da dove scaricare gli aggiornamenti gestione qui puoi decidere magari ti succederà mai o una sola volta nella vita di AVG 2015 comunque ti ricorderai di Leonardo e della videoripetizione e qui puoi eliminare gli aggiornamenti temporanei o ripristinare la versione precedente del database dei virus potrebbe tornare utile queste sono tutte le opzioni di aggiornamento divertiti magari ogni 24 ore ci controlla scusa non ogni 24 ore ma ci controlla se l'ora è impostata sul computer supera l'ora corretta di oltre 24 ore e questo può essere interessante perché se hai la data impostata in avanti è probabile che AVG 2015 non ti scarichi nessun aggiornamento quindi se ti va a darci un'occhiata andiamo avanti con le eccezioni che è molto interessante perché da qua da questa voce eccezioni puoi aggiungere degli eccezioni come di file o cartelle che vuol dire che se hai un programma sul tuo computer magari l'app videoripetizioni oppure qualsiasi altro programma che utilizzi di frequente sei sicuro che non è un virus ma vedi che dopo l'aggiornamento o l'installazione di AVG 2015 quel programma ti va molto ma molto più lento rallentato è possibile che l'euristica quindi l'algoritmo dell'antivirus AVG 2015 te lo rilevi come un programma potenzialmente dannoso come fare? Qual è la soluzione? vai qua su eccezioni che ti ricordo guarda dov'è non ci perdiamo sta qua da computer impostazioni eccezioni tre clic e ti aggiungi un'eccezione dicendo caro AVG 2015 questo file che magari è il file del tuo programma .ex ecco qua cioè dagli un nome oppure te lo vai a cercare direttamente all'interno della cartella del tuo computer con il tasto sfoglia in genere i programmi possono stare sotto c program files o programmi ad esempio addirittura mettiamo un'eccezione ad AVG 2015 ti trovi il percorso con il file eseguibile poi puoi decidere di fare un'eccezione in qualsiasi posizione si trovi questo programma e utilizza l'eccezione per tutto ovvero per i motori dell'antivirus te li consiglio tutte e tre e poi fai ok naturalmente non abbiamo messo niente nel tuo caso può andarti a mettere i programmi o i percorsi quindi file o cartelle addirittura intere cartelle naturalmente se vuoi fare karakiri ti consiglio di mettere program files quindi fare eccezioni su tutti i programmi questo non lo fare mai perché altrimenti se prendi un virus che è un eseguibile e sta sotto la cartella programmi AVG antivirus 2015 ha questa eccezione attivata quindi usalo con parsimonia usalo puntualmente sui programmi indispensabili che non vuoi che il tuo antivirus 2015 interferisca o rallenti e quindi clicca ok queste sono le eccezioni e meritavano almeno 30-40 secondi di tempo dedicato e poi c'è la quarantena dei virus ovvero che cosa fai karavg quando trovi dei virus dove li metti? li metti in quarantena cioè in prigione detto fra noi quindi li annienta li cerca di disattivare li metti in quarantena affinché tu possa vedere che cavolo di schifezze conteneva il tuo computer e puoi limitare la dimensione della quarantena dei virus al 10% del disco rigido all'impostazione di default io ti consiglio magari di abbassarla perché è abbastanza esagerato soprattutto perché adesso gli hard disk sono tanti gigabyte se non tera e eventualmente elimini in maniera automatica i file più vecchi quindi i virus più vecchi di 30 giorni e un numero massimo di virus di file in quarantena in prigione da archiviare non supera i 1000 possiamo metterlo anche a 500 e poi clicchiamo applica autoprotezione AVG che cos'è? boh beh è attivata la lasciamo direi di lasciarla ecco non lascia tante scelte abbiamo quasi finito preferenze per la privacy ecco questo è importante mi pare che in fase di installazione quindi dal portale web videoripetizioni.com dalla parte 1 di AVG clicca qua mi pare di averti detto come fare per nel mio caso non lasciare AVG 2015 interferire troppo sulla tua privacy se non l'hai fatto non l'hai installato spensieratamente guarda da la voce privacy preferenze privacy leggiti con calma queste voci e decidi che cosa inviare quali dati consentire all'antivirus di leggere e ricevere e quali no ignora lo stato di errore è la penultima voce e ignora lo stato di errore di questi componenti io personalmente non metto niente te ragiona cioè magari fammi sapere sui commenti se pensi sia utile attivare uno qualsiasi di questi stati di errore e avviso di reti noti questa e avviso di reti noti sono le tue in genere reti wifi e reti lan che utilizzi se clicchi puoi vedere il tuo mac address che è l'indirizzo univoco in tutto penso il mondo della tua scheda di rete e quindi per gli hacker è una mano santa quindi è meglio che non lo fai vedere e il nome il seed della tua rete wifi va bene quindi andiamo avanti e iniziamo a fare un'introduzione della protezione web per poi riprenderla nella prossima video ripetizione penso che sia la numero 15 la numero 5 15 ti avrei già ucciso dalla noglia per riprendere la protezione web in maniera efficiente ed efficace quindi clicchiamoci innanzitutto sulla protezione web come vedi è abilitata andiamo sulle impostazioni ed ecco qua che stiamo sulle impostazioni della protezione web e come vedi è abilitata tutto qua ed è questa qua surf shield ovvero lo scudo per il surf ovvero lo scudo per navigare su web con i tuoi browser google chrome internet explorer firefox ed altri safari e via dicendo quindi clicchiamo ok volendo c'è anche la voce dettagli andiamola a vedere insieme perché non so di cosa si tratta la voce dettagli non è attivabile l'online shell ovvero lo scudo online per questa versione base gratuita di antivirus avg antivirus 2015 versione free non è attivabile se clicchi e aggiorna per attivare naturalmente ci manda al link del sito internet di avg e ci propone 30 giorni di prova gratuita e poi l'acquisto dell'antivirus valuta te se farlo oppure no io in questo caso chiudo intanto clicca anche mi piace sulla pagina videoripetizioni .com ufficiale facebook e torna all'esplorazione del web che è conclusa così ci dice solo che è attiva andiamo a vedere i dati personali identity protection che cos'è questi dati personali è sotto la protezione web e in realtà già l'abbiamo visto nelle videoripetizioni precedenti quindi ci dice che innanzitutto attivalo questa identity protection che dovrebbe essere la protezione dei dati personali sul web quindi anche dei file all'interno del nostro computer che contengono dati sensibili per la privacy e ce li mette automaticamente in quarantena le minacce conosciute che magari minano vanno a rompere le scatole alla nostra identità ci manca la protezione email quindi abbiamo visto tutto la protezione del computer completa la protezione web completa e dei dati personali ci manca la protezione email che andiamo a vedere nella prossima videoripetizione perché magari merita di quei 2-3 minuti di spiegazione e anche di panoramica per attivarla nella maniera più consona possibile anche perché facci caso appena clicchi su protezione email guarda è abilitata per i messaggi in entrata quindi per le email che ricevi ma non per quelle in uscita quindi come prima cosa attiviamocela e poi andiamo a vedere le impostazioni quindi amico mio ti saluto e ti ringrazio tanto per aver visto questa quinta mi pare video ripetizione sull'antivirus AVG 2015 se ti va fa mi piace su facebook ci trovi anche su google plus se ti va e vuoi partecipare al progetto di condividere la tua conoscenza con il mondo con video ripetizioni e con gli oltre quasi 8000 iscritti e con circa un milione di visualizzazioni in crescita ti invito a cliccare qua login e a registrarti cliccando su non possiedi un account e a iniziare a caricare i tuoi video tutorial amatoriali la nostra commissione tecnica composta da me e da altri tre amici valuterà se sono consoni ad essere pubblicati su videorepetizioni.com oppure no quindi sarai contattato qual è il tuo vantaggio è che avrai una platea abbastanza grande con quasi 8000 iscritti e un bel po' di visualizzazioni e minuti guardati giornalmente quindi potresti farti anche avere più visibilità potresti darti più visibilità alla tua attività alla tua passione perché no se ti sa troppo questo ti invito ad iscriverti semplicemente alla newsletter videorepetizioni.com basta che scorri verso il basso e quasi 2500 amici lo hanno già fatto qui scrivi il tuo nome qui scrivi la tua migliore email e poi clicchi iscriviti subito e aspetta quei 3 o 4 secondi e sarai reindirizzato alla pagina principale di videorepetizioni.com e se sarai iscritto alla newsletter e otterrai il meglio da videorepetizioni con solo 2 massimo 3 email al mese quindi un email ogni 15 massimo minimo 10 giorni quindi non è spam non ti preoccupare altrimenti 2500 amici non l'avrebbero fatto e così sarai aggiornato su tutte le novità e non rischierai di perderti niente quindi se ti vai iscriviti anche al canale youtube ci trovi sempre come videorepetizioni ti auguro un ottimo aggiornato serata e ti ringrazio per il tempo che mi hai e ci hai dedicato ciao da videorepetizioni ciao da Leonardo un abbraccione ciao da Grazie a tutti.